L'eccellenza artigiana in una chiave sempre più moderna e al passo coi tempi. Dal 26 ottobre al 3 novembre all'Ario Fiere di Erba va in scena la 46esima edizione della Mostra Artigianato, uno degli appuntamenti più attesi del calendario autunnale del polo fieristico. Lo scorso anno 40.000 persone hanno visitato i 180 espositori presenti. In cabina di regia siedono i referenti di Confartigianato Como e Lecco, che con l'Ario Fiere stanno lavorando ad un progetto rinnovato nella forma e nei contenuti. In serata la presentazione delle novità da parte della squadra guidata dal neoeletto presidente. Noi siamo nel tempo del cambiamento costante, continuo. Cioè quello che sappiamo bene è che una volta cambiava in cent'anni e oggi cambia in un anno. Quindi inevitabilmente le professioni, come anche la vita sociale, si deve adeguare. E devo dire che gli artigiani del nostro territorio sono sicuramente all'avanguardia. Sono molto bravi, sono preparati, si continuano a rinnovare, nascono nuove professioni. Verranno introdotte quest'anno aree merceologiche nuove, è il caso degli artigiani del sistema casa e degli autoriparatori che mostreranno sistemi efficaci per la riparazione dei veicoli. Anche semplicemente facendo direttamente qua in fiera un preventivo a costo zero e soprattutto facendo vedere al visitatore che si possono anche fare dei ritocchini alla propria auto senza troppe spese. L'altro invece settore è appunto il sistema casa, quindi avremo diversi artigiani che presenteranno il loro saper fare riguardo la casa. Spazio anche al food con il lancio di compra artigianato, progetto per la promozione e vendita di prodotti artigianali del settore alimentare. Anche moda e design racconteranno infine l'eccellenza artigiana. Nello stesso quartiere fieristico alla Rio Fiera avremo non solo sposi, quindi la parte sposi che mancava l'abbiamo realizzata, sarà una fiera verticale quindi destinata a quello, ma che si abbina perfettamente con la mostra dell'artigianato per grandi settori di grande sviluppo, ad esempio la parte legata alla moda e la parte legata all'arredamento. Grazie.